Grazie ovviamente per essere qui, ovviamente la sindaca anche per il coraggio che ha messo e ci sta mettendo in questa operazione, ovviamente tutte le autorità civili e militari, il Presidente della Regione, il Prefetto Frettasi, il Prefetto Palomba e l'Agenzia del Demagno. Credo che oggi sia un giorno importante per tanti motivi e io farò solo tre breve riflessioni anche perché è molto stato già detto e lo condivido. Innanzitutto che lo Stato c'è, molti cittadini si pongono la domanda nel vedere difficoltà, nel vedere contesti difficili, parlando proprio di quel tema della coesione sociale, se lo Stato c'è o non c'è. Ecco io oggi credo che il messaggio che diamo principale sia proprio questo, lo Stato c'è e nell'esserci è unito. Non sempre, soprattutto anche in questo contesto economico, politico e sociale che stiamo vivendo, si dà questo segno di unità che va al di là del colore politico, credo che qua rappresentiamo, parlo ovviamente per me e per i Presidente della Regione, forze politiche certamente diverse, ma ci sono temi che devono unire e non devono dividere.